Con l'apertura delle scuole scatta anche l'orario invernale dei pullman. Come sempre non sono previste corse dopo le 22, sospesi alcuni importanti servizi nei giorni festivi, ma c'è anche maggiore attenzione alle corse feriali per gli studenti. Tra le novità, la prima corsa del mattino da Sanremo verso Andorra è posticipata di un quarto d'ora, dalle 6 alle 6 e un quarto. Aumentano invece i bus verso alcuni paesi dell'entroterra, ad esempio quelle per Baiardo e Ceriana, fino a 6 al giorno, 2 nei giorni festivi. La linea 20 miglia Sanremo recupera una partenza alle 6 del mattino. Via dai tabulati le corse serali e notturne, sia quelle degli autobus costieri che quelle che servono i quartieri più popolosi di Sanremo, l'urbano di Bordighera, ridotto a due corse la domenica, e il Taggia. Tornano a ridursi a 4 al giorno i viaggi, solo feriali, da e per la nuova stazione di Diano. L'oraio invernale durerà come sempre 9 mesi e prevede anche un servizio ridotto ai minimi termini durante i ponti, le vacanze di Natale, quelle di Pasqua e il Festival di Sanremo. Tutto questo anche per continuare a mantenere in equilibrio i conti aziendali dopo i pesanti tagli nel trasporto pubblico.